Ed ecco gli appuntamenti per il fine settimana. La piccola bottega degli orrori, il musical divertentemente sanguinoso in programma fino a domenica 9 aprile al Teatro Orione a Palermo. Stefania e Amanda Sandrelli arrivano al Teatro Al Massimo con una commedia leggere e brillante dal titolo Il Bagno di Astrid Veillon fino a domenica 9 aprile. Fabrizio e Valentino Pizzuto in arte i 3 e un quarto sul palcoscenico del Teatro Cristal con Finché morte non ci separi. L'appuntamento sabato 8 e domenica 9 aprile. Il 7 aprile i Sud Sound System in concerto a Catania alla Vecchia Dogana. Anna Bonomolo e Diego Spitaleri presentano il loro nuovo progetto dal titolo Solo in due, diario di viaggio sull'amore. Il duo si esibisce al ridotto dello spasimo venerdì 7 aprile a Palermo in due concerti alle 20.35 e alle 22.35. Continua il Real Albergo dei Poveri di Palermo fino al 14 maggio la mostra Farfumetti, storie, artisti, collezioni, organizzata dalla Fondazione Orestia di Digibellina in collaborazione con il Polo Museale Regionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Palermo e la Scuola del Fumetto. Si rinnova domani 8 aprile alle 10 l'appuntamento al Parco della Favorita con la Festa del Verde, un momento di partecipazione collettiva dove i cittadini palermitani vivono il contatto con la natura in uno spazio verde metropolitano. Sabato 8 e domenica 9 aprile a partire dalle 10.30 spazio all'edizione 2017 della Festa di Primavera al Parco Auditore. Musica, sport, animazione per i più piccoli e l'immancabile Color Party. Musica, sport, animazione per i più piccoli e 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 i più piccoli.